Padre Grattien uccise Guerrina Piscaia per evitare uno scandalo, un atto istintivo. Aveva paura, vedeva minacciate la salvaguardia del suo onore e la sua dignità di prete. Questa la tesi che si legge nelle motivazioni della sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise il 24 ottobre 2016, che ha condannato il frate congolese a 27 anni per omicidio, volontario e occultamento di cadavere. Guerrina scomparve da Caraffello il 1 maggio 2014, il cadavere della donna non è mai stato ritrovato. Se è questo il motivo per il quale Padre Graziano avrebbe agito così come ha ritenuto la Corte d'Assise, l'unica cosa che posso dire per ora è che si confrontassero queste considerazioni con quelle che ha già svolte il giudice delle indagini preliminari quando valutò la medesima circostanza e la ritenne totalmente ininfluente ai fini della sussistenza dei reati di omicidio. Quindi già questo mi fa sorgere un dubbio sulla forza probante degli elementi che la Corte ha utilizzato per ritenere sussistente questo movente. Sembra che la Corte di Assise ha sposato pienamente la linea del Pubblico Ministero e anche del GIP per quanto riguarda il movente, per quanto riguarda probabilmente anche le modalità dell'omicidio, però ovviamente mi riservo di rileggere le motivazioni. Con Mirko e Lorenzo Alessandrini come stanno? Non ha preso questa notizia? Sì, ho riferito loro del deposito delle motivazioni, ci incontreremo, leggeremo insieme le motivazioni e poi ci confronteremo. A Mirko manca la moglie come a Lorenzo manca la mamma e quindi questa pena, come detto in Assise, questo ergasto, loro lo sconteranno per tutta la vita. Adesso la difesa del frate ha 45 giorni di tempo per presentare appello. Oggi vediamo di capire un pochino meglio le 220 pagine di questa sentenza. Le prenderemo in considerazione una per una e valuteremo che tipo di impostazione dare all'atto di impugnazione, che cosa sostenere e più che altro reiterare anche le richieste istruttorie che sono state rigettate, secondo noi, legittimamente dalla Corte di Assise. Padre Grattien si trova attualmente agli arresti domiciliari nel convento romano dei Premo Stratensi. Continua a gridare la sua innocenza? Assolutamente sì.